A Misriscemi andate speditamente, avete approvato il consuntivo e il rendiconto 2022, Assessore Barbera. Sì, abbiamo venerdì sera, abbiamo l'Aula Consiliare, tutto il Consiglio Comunale all'unanimità ha approvato il rendiconto 2022. Atto importante che ci permette di andare avanti sull'approvazione, sulla lavorazione del 23-25, quindi sul previsionale e finalmente mettere in piedi un po' la struttura del Comune in modo da poter avviare meccanismi di mobilità e nuove assunzioni anche per il personale e soprattutto per i servizi ai cittadini. E' importante, teniamo presente che dal punto di vista di dati effettivi del bilancio usciamo fuori con un avanzo di quasi 5 milioni perché chiaramente i servizi sono stati svolti dal Comune di Trapani, quindi i costi sono sostenuti dal Comune di Trapani. E sono soldi che andranno dati a Trapani? Non tutti, perché ovviamente nella partita debiti e crediti abbiamo già accantonato circa 3 milioni e 8 proprio in bilancio che sarà la somma che stiamo lavorando, trattando con Trapani per il pagamento dei servizi. Ovviamente questa somma nel momento in cui chiuderemo, o manca poco, chiuderemo i controlli sul dato 2022 tranquillamente delibereremo in giunta e daremo ovviamente a Trapani che correttamente ha svolto i servizi per l'anno 2022. Insomma quindi si va verso il futuro? Sì, assolutamente, stiamo correndo speditamente, se riusciamo nel giro di due settimane a chiudere anche il previsionale avremo in un anno e due mesi chiuso tre bilanci, penso che sia un risultato abbastanza soddisfacente per questa amministrazione ma soprattutto per i cittadini di Misiscemi.